Musica Hola compagnero, Squi Jim Lemon, bentornati sul mio canale Rieccoci qui su Medal of Honor Warfighter Allora, io ho fatto qualche altra missione ed è preoccupante il fatto che ci siano ancora rimasti 1, 2, 3, 6, 8 8 missioni Va bene Comunque noi facciamo via della costa perché dove ero rimasto l'altra volta non è altro che il tutorial iniziale Devi abbattere dei manichini quindi secondo me è inutile Qua intanto c'è un po' di lag, non so perché nel video Ho già provato con questo gioco e mi sono già fatto un'idea A voi proporrò ancora questa missione come gameplay e poi basta Dopo finirà lì, non lo porterò più questo gioco perché ho altri progetti e ho altri giochi da portare avanti Quindi facciamo ancora due gameplay Quando arriva la polizia non dobbiamo più sparare ma ballare Balliamo ragazzo mio Ok, quindi anche se faccio davvero bene Vincenzo non è contento ma è pronto Buon per lui, avrà la sua iniziazione A me come al solito mi sono dimenticato di mettere Un'anticipazione Il timer No, ancora no Teniamoci in contatto Culo Un minuto Stamp Non saremo mica lui che dovrebbe impressionare Che brutto Vabbè Il motore grafico sembra svolgere la sua funzione per adesso Vediamo Sì, interessanti i rotori dell'aereo Sì, me li vuoi far vedere ancora un po' No, non lo so Delle barche Chi è? Figo E là Sforata Ma no Sarebbe stato più bello Anche far tutta la caduta Giocando Stanto Semaforo verde Stanno entrando Bene Grazie 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 Vi chiediamo Non ho ancora capito com'è la storia Vabbè Mago 1 3,1 per 5 minors Roger Roger Qui ha dentro l'uomo Roger La Tastar Chrisley ti occuperà di chiunque roba i coglioni Ok Dingo Entriamo e colpiamo Proprio in mezzo al villaggio pirata Villaggio pirata Attenti alle strutture Ok Andiamo Fuoco secondario eh Uh Ok, per mettere l'altro Ok Ok Andiamo E là M'ha preso Un cecchino Via 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 No c'è già qualcuno Madonna Non c'è un cecchino là dentro ma Finchè non ci cosa un po' Uè ma che cazzo è che mi spara adesso Dove mi sparano Guarda lì È morto Chi è? Non lo so a vita di... a volte Vabbè Sei morto? Maledetti cecchini Eh li vedo Eh li vedo Per no Merda Ma puttana Vai Dai cazzo Cosa fa questo? Eh Ropa Cioè ma questi qui non li ammazzate? Madonna io ho scolato in testa tre volte Non me li ammazzano Allora la c'è uno Quello la fa il balletto Dai che è lì Ecco è morto Qualcun altro? Allora Tenere premuto per prendere l'altro Ma ci sta ricaricando ma Teniamo premuto vediamo che ci dà Ok preso Cazzo Che cazzo è ancora? Vediamo che c'è una granata Via Ancora Ma dove spara? Ma dove cazzo sparava? Questo? Cioè scusa no è ammazzarlo o no? L'abbiamo preso? C'è ancora uno Vabbè 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 butta via così Ok Cazzo lanci? Intanto c'è anche nessuno Ti ho la pistola? No cosa ho visto? Colpi finiti Ho una pistola con colpi finiti No non ci posso credere Perché? Perché? Le munizioni me le dai tu? Vabbè posto Perché mi devi dare colpi finiti? Vabbè Ok sfondiamo Proviamo un po' Ostia eh sì perché io ho già fatto Allora come lo sfondiamo? Calcio Tomahawk Non c'ho quello Facciamo calcio Tomahawk Vai Non sento il rumore del Tomahawk Ma Forse perché ho Quello abbastanza basso Uno Due Tre Qua Non è morto Eh ho visto Oh Fide di porco sbloccato Wow che cosa Dammi La cappa Allora 7 per il top Madonna lo butta via così Marco segnate il bersaglio Eh Io tengo premuto per agarizzare Ma che cazzo? Ma puttana Dai Madonna mi ammazzano Ok Suoco Tre secondi all'impatto Dai 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 Vediamo un po' come lo Distruggono Eh la madonna ma che cazzo sta sparando qua Puttana Già nel primo Nel primo gameplay Al posto del Cos'era? Dell'esplosivo Che doveva causare chissà Una mini esplosione C'è una bomba atomica Praticamente Cioè scusatemi ma E questo cos'era? Un bombardamento proprio E non avrete voluto proprio Lasciare in vita nessuno Sarebbe assurdo se fosse sopravvissuto qualcuno Guardateci lo stato Passo E va Dai che non c'è nessuno Secondo me Forza andiamo Che c'è un po' di lag Forse dovrò abbassare un po' i settaggi Ma vabbè Non c'è problema Eh ma ci vedo un cazzo Qua giù Qua giù dove? Che succede? Che succede? Oh Bot Mi date il bot Si Adesso sta schermata nera Che cosa mi sta a significare ragazzi? Oh c'ho il bot Ciao! Si ok Ok ci siamo Bene Il bot Era dei tempi di Uh Eh madonna cos'è? Spari Spari Aghe Aghi Che cazzo ne so E' dei tempi di Future soldier che non usa un bot E' questi qui che passano così Se ne fregano altamente Bellamente Ma io ho anche altre armi Fa una raffica Colti immagino siano infinite anche per questo F la torcia Qui crolla tutto Si ma perchè? Perchè mandato il bot? Eh beh E' un po' di gente qua Ciao ragazzi Oh la Chi è che c'è che mi spara Magitola Guarda Oh la Auf Oh la Mi sta abbattando più non stanno andando solo a me per capire che mi sta sparando sto sparando alla palma io mi sono bloccato sto sparando la madonna chi è che mi sta sparando adesso da dietro ah ma porca puttana io sono solo un cazzo di robottino mi sto crepando sto crepando sono morto vabbè sono ancora vivo ok cazzo cosa sta succedendo oh sono bugato ok dai muoviti ok ah qua c'è uno qualcun altro quello la è oh quello la fa un trucco di magia guardate che bella ah vabbè ok e beh chi è che mi sta sparando con l'RTP c'è adesso arri expo c'è adesso sono bloccato proprio ok L'altra arma No aspetta Perché hai metto la pistola Dai non puoi Non puoi tenere più di Di una pistola e di un'altra arma Principale Madonna Madonna se sei Ma dov'è Naffanculo tutti quanti Ok stavolta usiamo il piede di porco L'abbiamo sbloccato E il prossimo cos'è Ma bene Non senti i rumori Non senti i rumori Boom Certo che vabbè Abusata Questa tecnica ormai Era carina l'inizio Questo non muore Abusata Cioè ormai Vabbè ma qua mi stanno sparando dappertutto Ok questi cosa sono No sono lì per bellezza Va bene ragazzi Io vi saluto qui E alla prossima Al prossimo gameplay Finiamo questa missione E da Gilemon è tutto Mi raccomando Se ci piace il mio canale Iscrivetevi E niente Ci vediamo alla prossima Ciao ciao Ciao